Un retroscena che lascia davvero di stucco. La confessione della mamma di Denise Pipitone sull'altro figlio C'è da dire che le sorprese sono infinite. Abbiamo avuto l'onore di conoscere la mamma coraggio per eccellenza nelle vesti di Denise Pipitone La strana circostanza in cui è stata rapita la bambina di Mazzara del Vallo ancora tiene sospesso gli inquirenti La signora Piera Maggio negli ultimi 20 anni è stata di pianta stabile sul piccolo schermo I suoi appelli risuonano quotidianamente nella ricerca della piccola sparita in un fine estate del 2004 La bambina era stata affidata alla nonna Giusto per poco tempo È bastato una manciata di secondi e qualcuno ha rapito Denise senza lasciare alcuna traccia È il caso più controverso che sia mai capitato nella cronaca italiana Tante segnalazioni non sono mai andate a buon fine ma la dolcissima Piera non perde le speranze e se sei che prima o poi ritroverà la sua piccola gioia Denise Pipitone e il fratello Kevin, solo una cosa li accomuna oggi Denise avrebbe la maggiore età, forse è diplomata, forse ha una famiglia, tutte supposizioni Con l'avvento della tecnologia la mamma di Denise ne fa incetta, spesso posta dei messaggi e delle foto della sua bimba ormai divenuta signorina Non vuole Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao